Non è facile comprendere o definire uno sport adatto a un bambino rispetto a un altro. Sicuramente le regole fondamentali sono quelle di rispettare un pochettino la crescita dei bambini. Nel contesto di questo le due tipologie di sport più praticate sono i sport di squadra e i sport individuali. Secondo me nella prima fase sportiva, quindi nei primi anni, quando si inizia la scolarità intorno ai 6-10 anni, lo sport di squadra è lo sport più vincente per una crescita sia globale a livello del proprio organismo, del proprio fisico, sia per una crescita mentale, perché l'imparare a vincere e a perdere di squadra è qualcosa di importantissimo per un ragazzo e un bambino in crescita. Sugli sport individuali, come possono essere il tennis, qui c'è una condizione mentale che deve essere un pochettino più sviluppata, ci vuole un pochettino più di maturità, perché l'affrontare da soli un avversario nel contesto comprenderne sia il significato dal punto di vista della vittoria, della sconfitta e il rispetto dell'avversario è un po' più complicato da gestire. I bambini sviluppano nella fase di crescita diverse problematiche durante le attività sportive, per cui ci sono situazioni di dolori a livello articolare del ginocchio, di dolore articolare della caviglia, perché ci sono dei nuclei di accrescimento che si sviluppano e spesso messi sotto pressione in alcuni bambini creano delle patologie che sono definite osteocondrosi, cioè delle sofferenze di questi nuclei di accrescimento. In questi casi, se il bambino dolore e quant'altro, il rispetto del dolore va sempre mantenuto e quindi quando si ha dolore ci si ferma, si sta a riposo, si mette il ghiaccio. Se nel contesto questa situazione dolorosa permane per più di una settimana, dieci giorni, è conveniente fare una visita dal punto di vista ortopedico per ragionare insieme su quali attività si possono modificare a livello comportamentale, a livello di allenamento per riuscire a superare queste fasi di difficoltà. Nel contesto dello sport, nei ragazzi sicuramente lo sport di squadra è uno sport che presumibilmente è più traumatico rispetto a uno sport individuale e questo facilita la possibilità di eventi traumatici e di traumi a livello articolare di anca, di ginocchio, di caviglia o di spalla. Lo sport che è più completo da un punto di vista traumatologico è sicuramente la palacanestro perché sia la fase di attacco che di difesa presuppone tanti scivolamenti a livello articolare delle ginocchia ma anche tanto movimento dell'articolare della spalla, del gomito e della mano. Il calcio è lo sport più praticato e in questa condizione le patologie invece di ginocchio e di caviglia sono sicuramente quelle principali. I traumi distorsivi sono all'ordine del giorno, sia che siano bambini sia che siano adulti. Nello sport invece individuale le condizioni di trauma, barra, distorsione sono più legate alla stanchezza cioè alla menor preparazione fisica o al superamento dei propri limiti dal punto di vista articolare e questo porta a dei cedimenti a livello del ginocchio e della caviglia che può portare poi a delle lesioni che andranno giudicate e valutate con degli esami radiologici per definire poi una strategia di recupero.